Juve, Barzagli, la conferma di Allegri mi fa capire qualcosa. Benvenuti nel canale. E siamo la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Le parole dell'ex difensore sulla permanenza del tecnico responsabile della squadra bianconera. Poi promuoverà Biot, buon segno. Intervistato dalla Repubblica, Andrea Barzagli si è concentrato sul desiderio di Massimiliano Allegri di continuare la sua esperienza con la Juventus, il rifiuto di Allegri di andare in Arabia Saudita? Questa decisione mi fa capire quanta convinzione ha di rimanere alla Juventus e con quali intenzioni vuole far ripartire un orgoglio come lui. Barzagli su Rabiot, il rinnovamento è un buon segno. Barzagli ha anche commentato il rinnovo del contratto firmato da Rabiot, il mercato sta iniziando a rifornire ora, dobbiamo vedere chi arriverà e chi partirà. Ma è un grande segno del rinnovamento di Rabiot, un mezzo moderno, di grande motore e di grande qualità, che all'inizio pochi avevano capito. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.